E' dedicato al sequestro di Salvatore Pupo Troffa il secondo volume della collana Il romanzo della superanonima Sequestri Sarda. Scritto da Ettore Angioni, già procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello della Sardegna e Pubblico Ministero nel processo, il libro racconta gli avvenimenti investigativi e giudiziari legati a quel rapimento. Troffa, notissimo imprenditore, fu sequestrato il 3 novembre 1978 sotto casa a Sassari. Fu rilasciato dopo una prigionia durata 243 giorni, un rapimento che nella storia del banditismo isolano è stato il più lungo come durata della prigionia, ma anche quello con la richiesta di riscatto più alta. Non solo, il sequestro si concluse con la liberazione dell'ostaggio dopo lo scambio con Giovanni Piredda, suo dipendente, una vera e propria garanzia fino al pagamento del saldo. All'anonima fu versata la cifra di un miliardo di lire. E al Circolo Sassarese, dove Troffa per tanti anni ha coltivato la passione per il gioco del bridge, il volume è stato presentato da giornalista Pierluigi Piredda, insieme al colonnello dei Caravenieri Luciano Gavelli e ad Ettore Angioni, autore dell'intera collana edità da Alfa Editrice, che comprende otto libri. Il primo era dedicato a un altro rapimento che alla fine degli anni 70 riempì le cronache dei giornali e delle tv, quello di Giorgio e Marina Casana. Forse il più rocambolesco e incredibile dei sequestri di persona avvenuti in Sardegna. Nella collana sono raccontati episodi accaduti nella fase delle indagini e poi nelle aule dei tribunali, con Ettore Angioni, che lavorò insieme al collega magistrato Luigi Lombardini, dell'ufficio istruzione del Tribunale di Cagliari, nel portare a dibattimento i responsabili dei sequestri. Processi conclusi con condanne esemplari.